Come lo vorrei vedere? Bellissime! Effettivamente sono di una bellezza meravigliosa, eh? Bellissime! Proprio come ce l'ha scritto sul giornale. Affascinante! Maliarde. No, no, sul giornale ce l'ha scritto miliardarie. Sì, ma maliarde lo dico io perché sono due donne maliarde. Maliarde e miliardarie. Fortunatissime siamo. Senti, non ti sembra il momento di scegliere? Scegliamo. Tu quale vuoi? Se non hai niente incontrario, io prenderei pia. Sei il cretino! Io non ho nulla incontrario, sono uguali! Allora la tua è mia. E che discorso sono? Se è mia e mia. E beh, io che sto dicendo? La tua è mia. Ciccio ti do una coltellata e due scariche all'opana. È mia e mia! E questo sto dicendo, sì, che è tua, ma è mia. Tua è mia, capisci? Se tu prendi a mia. Io sposo a te! E che facciamo la razza dei cani e barboni? Ma che discorso sono? Ma cerca di capirmi, la tua è mia, capisci? No, è mia! È mia! E non mi fai perdere la coltellata. La tua si chiama mia, guarda qua. La tua si chiama mia. La mia si chiama pia, hai capito? Ah, la mia si chiama mia. E allora se si chiama mia è mia. È tua. E allora perché fai tante cose e dici cose che è insensato? Insensato. Mi sposa a te. No, no, io mi sposa a te. E te lo pigliavi sto fosso. Oh, basta!